Musica Continua il coverage di every eye.it, siamo qua allo stand di Microsoft, abbiamo appena provato Ori and the Blind Forest, l'indie game ad opera di Moon Studios, sviluppato in 4 anni da un team di sole 8 persone. Un gioco che è appunto un metroidvania con una forte componente platform, è un control scale praticamente privo di difetti, il protagonista poi gode anche di due sistemi di crescita dell'abilità, uno skill tree diviso in tre rami e poi anche abilità acquisibili nel corso dei livelli. Quindi importantissima anche la trama ricchissima di sentimento, pathos con citazioni chiare dal gigante di ferro ma anche dal re leone, insomma un prodotto davvero completo. E poi c'è la cifra stilistica che come avrete visto sicuramente nel trailer è qualcosa di fantasmagorico, qualcosa su cui il team si è soffermato sicuramente a dovere. Noi abbiamo provato la prima mezz'ora, ora troverete in home page anche il nostro articolo e nell'attesa della recensione che arriverà entro la fine dell'anno. Grazie